Se vuoi piacere qualcosa, aiuto! Non ha capito? I primi 5 che arriveranno al bancone, uno sconto per una serata della trattoria del pescatore offerta da Giuliano Aldo. Muoversi, grazie. Vediamo inizio la serata, in console da Matteo Marchetto. Alla discoteca, ragazzi! Alla discoteca! Special Quest, Vanessa Aldo. Vale. Vale. Ce la possiamo fare? E qua la gente aspetta, eh? Signore, è qui la testa! Vale. Buona giornata! Buona giornata! Buona giornata! Sto danno il nostro rumbo su tutto il mondo, eh? Non è l'ora che se ne parla in fondo, eh? Se da caldo dovete rimanere, ragazzi Ma... che è che mi dica a mio figlio di ballare Alfa! Alfa! È il mio corazzon Beh? Uacca, uacca, belle signora Pelle signora Che suona? ..roggamosti mantenga sus pertenencias controla Grazie a tutti. E la Morghi che se la balla? E la Morghi che se la balla? E la Morghi che se la balla?